L'Anfranco Venturoni, capogruppo in consiglio regionale di Nuovo Centrodestra, vi preparate agli eventi che segneranno l'inizio di questa nuova avventura. C'è lo stesso entusiasmo, secondo alcuni, della prima Forza Italia, della Forza Italia che nacque nel 94? Certamente, anche perché, paradossalmente, chi in quegli anni fondò in Abruzzo il Forza Italia, oggi siamo quasi tutti nel Nuovo Centrodestra. È una motivazione anche politica, non è soltanto un raggruppamento di amici. Credo che oggi Forza Italia di una volta viene rappresentata più qui perché Forza Italia è una forza moderata, è una forza di centro moderato, alleato con la destra. Paradossalmente, oggi la Forza Italia che si è costituita rappresenta più la parte destra del centrodestra e quindi noi riacquistiamo questo spazio di centrodestra che poi è l'anima dell'elettorato di centrodestra, la maggioranza. Quindi si tratta di riconquistare questo elettorato che, tra l'altro, ultimamente non andava più neanche a votare e quindi credo che questo sia un impegno da parte nostra per rimotivare il nostro elettorato da una parte e può essere anche la chiave per poter far sì che il centrodestra rivinga in Abruzzo e in Italia. Entriamo nel mese di dicembre, il mese del bilancio. Più o meno avete deciso tutto in Consiglio regionale, si tratta di ratificare quelle che sono le scelte della programmazione della maggioranza di centrodestra. Il problema più che politico è un problema tecnico, nel senso che noi abbiamo due ostacoli quest'anno sul bilancio. Il primo è che lo Stato ci deve liberare dei fondi che riguardano la sanità, per cui se viene approvato, come è stato approvato, il piano operativo e anche tutti gli altri adempimenti che riguardano la finanza della sanità, possiamo liberare risorse che poi possiamo mettere in bilancio, altrimenti sarebbe un problema. Il secondo punto è che la nuova legge prevede anche dei passaggi burocratici tra Revisore dei Conti e diciamo corte dei conti, prima di andare quindi il bilancio in Consiglio. Il problema quindi non è politico, non è che ci sono contrasti politici, penso che sia più un problema di adempimenti tecnici da portare avanti che possono ritardare un po' la situazione. Intanto l'Abruzzo sia appunto un'altra medaglia perché Veneto, Abruzzo e Piemonte sono le regioni che spendono meno per quanto riguarda i farmaci e più in generale la spesa sanitaria. L'Abruzzo è diventato da regione Canaglia a regione Modello. Vede, io mi ci viene da sorridere perché dico sempre alla sinistra che ci sono tanti argomenti su cui ci possono attaccare e lasciano perdere la sanità. Credo che sia sugli occhi di tutti, insomma a livello nazionale. Leggevo stamattina il Gazzettino Veneto, l'Abruzzo è la regione più burtuosa d'Italia quindi viene presa al riferimento standard per i costi della sanità, cose inimmaginabili qualche anno fa. Abbiamo superato le regioni del nord, quindi credo che su questo problema della sanità penso che sia giustamente un nostro cavallo di battaglia. Forse non ci rendiamo conto fino in fondo di che cosa è stato fatto su questo settore che poi non è un settore che riguarda solo la sanità. La sanità riguarda tutto l'Abruzzo, cioè mettere a posto i conti della sanità, far rifunzionare il sistema sanitario regionale. Significa far rifunzionare l'Abruzzo. L'Abruzzo è andato in defo per la sanità, cioè l'operazione più forte e importante che è stata fatta è proprio questa e quindi non c'è nulla da discutere. Cioè è inimmaginabile una cosa fatta dal centro-sinistra che ha fatto questi danni in questi anni su questo settore che oggi ci vengono a riproporre tra l'altro schemi antiquati che ci hanno portato proprio al defo in sanità. Quindi lasciamo perdere. Io credo che do un consiglio agli amici della sinistra. Parliamo di altri, c'è l'alluvione, ci sono tanti problemi, marciapiedi, c'erano tante cose da parlare, ma lasciamo perdere la sanità su che ci si può fare solo male, almeno da un punto di vista politico.